Una piccola distrazione può costarti un raid o addirittura, nei peggiori dei casi, un intero wipe. Ecco perché quando cerchi di sopravvivere non puoi lasciare mai nulla. Al caso. Ehi, bentornato, brother. Trova il parcheggio. Ma chi è che mi ha messo il letto Noize con la S? Bravo, Brion. Ma come ti permetti? Io Brion non lo scrivo senza una W. Io cambierei il nome, è quello molto più bello. Ciao ragazzi, io sono Noize e questo è l'ultimo video wipe dell'anno. E visto che me lo chiedete sempre, il server dove abbiamo giocato è il Blue Lagoon 1.5x. Era da un po' che non ci entravamo ed eravamo curiosi di come sarebbe andata. Dai, com'è? Com'è? C'è gente? C'è... Si, 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 si. Si vuoi farle, ma io non lascio i ring. Se li ho io. Andiamo. Vabbè, sarà, ma... Oh cazzo, c'è gente infariale. Oh shit. Mi stanno cesando, adesso ne ho in due. Uno revi e l'altro arco. Marte, una. C'ho solo il pumpy. Ma tra le trame lo uccido. Marte, Marte. Noize, ma sei già armato e inizio il wipe, ma come fai, citti? Nah, semplicemente, come al solito, sono arrivato tardi al wipe per via del lavoro. Quindi i ragazzi mi hanno carriato per l'ennesima volta, startando anche per me. Dietro, dietro, dietro. Closissimo, su desto, qui. Che sta? Due, due, due. Ho rotto il pump. Altro. Ok, sì. Ok, sei morto. Ciao, Anto. Invitami, 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 invitami. Invitali, invitalo. Io. Non mi ha invitato, non mi ha invitato. Grazie. Oh, Bri, ti tiro una pala di neve. Quanti ne faccio? Tre? Quattro? Non ci entra. Non entra. Eh, Furness. Entra? Non entra, non è... Entra! Vabbè dai, 4k via. Vieni qua giù. C'è una che abita qua. Alla porta il legno, tra l'altro. Ah, la rib. Quelli della rib, sì. Arrediamoli. Quanto lagga il tipo? Tu lo devi laggare, bro? No, non l'ho proprio visto. What? Cosa abbiamo per ridare? Boh, facciamo... POMPA. Vai, tengo... Qua. Boh. 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 Che cos'è? Ammazza P... Oh, è sponato. Non c'è l'arro, sì. Spruiamo, spruiamo. Volevi, eh? Ah, pure Wart. Lì, no? Avevo visto un Azzy verso il Lounge. Ci guardavo. C'è da full arse qui dentro, raga. Andiamo all'Arctic, allora. Sì. Oh, ma abbiamo un vicino, un altro vicino. Sì. Uscendo da base a destra. La 260. Porta. Mmm, mi sta in shit metal. Dai, prendi low grade, andiamo. E la blu. Low grade, ce l'ho io. Ho la blu. Let's go. Prima che il server wipe us abbiamo cercato di fare più blueprint possibili, ma ci mancava tutto ciò che riguardava gli esplosivi per poter raidare. Così siamo andati prima a prendere le tessere nelle varie rad, per poi fare una rig e accumulare un bel po' di scrap. Oh, guardate a sinistra. Cosa c'è? Non vedo niente. Un tipo, un iceberg. Sì. Ho il ragione. È enorme sta base. C'è enorme, è già il China. Mica, è bro, 3 yard, no? Guarda che polchieggio, dai. Mamma mia. Guarda che non mi ha fatto nemmeno bagnare. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Basta. Eh, oh, eh, oh. Valdone, grazie, brother. Grazie, bro, per il raid. Ciao a tutti, raga. Ho trovato un freno di bocca, se vuoi. Ma non dammelo. Dammi il freno di bocca. Bello. Eh, ti piace, eh? Bello, freno di bocca, mi ha ferito. La riga non penso se la siano fatta ancora. Vedete gente? Non lo so. Ah, sì, sì. Vogliamo spiegare. Sono full gear, sono full gear. Ok, ok. No, non è vero. Fermiamo? Non lo so, dipende da gri... Ok. Eh, fermati. Doppiato. Due hit. Quattro, 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 quello su. Morto, morto, morto. Bravo, bravo. Devi lasciarli? Non lo so, bro. Hitato, due hit. Forse due, eh? Ah, anche uno sul dock. Un hit sul dock. Sì, sono rimasti in due. Cusciano. Non so se hanno nade launcher, però. Potrebbero avere nade launcher. Dai, proviamoci. Cambia posizione. Non lo troviamo. Oh, hello? Perché così? È morto sopra. Bravo, bravo. L'altro è sceso. L'altro è sceso. È buttato, è buttato. Oh, fra cazzo. Questa è tutta la blu. Hai dato allo grade? Sì, andrò. Eh, il bro era full gear. C'è un altro set. Ah, me lo metto io. Oh, c'è roba nelle barche, eh? Mmm, bene. Perché se la sono spulciata per bene? Ma hanno fatto anche... Eh, infatti, la cassa è attiva? No. Non è attiva? What? No, c'è quattro nel... Nell'hit. What? Nel freno di bocca devo buttarlo. No, no, lo mettiamo sul sart. Attivo? No. Termini così. Sono sempre buggiati questi, assurdo. Non li fixano mai, eh? Guarda come work. Mamma mia. H-as. Questo H-e. H-as? No. H-e, H-e. Mmm. Inter launcher, però. Aspetta, no, non dite niente. Vai vedere. Non dite niente, non dite niente. Non dite niente. Dai, hai tolto qualcosa. Dai, no, bro. No, l'ha tolto. L'ha tolto, valla a prendere, valla a prendere. Era il benelli, bro. Guarda. Non dite niente, non dite niente. Non dite niente. Non vorrei chiederlo, ma... Ma quella bag? Ah. Va bene. Ho provato a correre con un cavallo, ho fatto una brutta fine. Dopo la O-Rig, in lontananza, abbiamo sentito un po' di esplosioni e siamo subito andati a controllare. Che erai dando? E ste casette in mezzo a nulla cosa sono? Ho acceso sul roof. Sai che hanno già lì vattere? No, madonna. No, sono un po' più in mid, saranno sul magazzino e recycler. Ma le fiamme sono tutte spente. Ah, ok. Ci hanno già di fatto. Madonna. Allora, l'avranno fatto quelli lì... G21. Possiamo andare a fare una romata G21? Li fai diamo. Andiamo. Oh. Sta redando loro. Sì, sta redando loro. Perfetto, perfetto, perfetto. Anche se è una di queste basi qua, siamo un full panino. Da che lato sta? Da che lato sta? Dal vostro? G22, H22. No, no, dal lato opposto. Ho ne uno davanti. Dal lato... Mi ha visto, eh? Dietro la 4x4. Forse mi ha visto. Era in alto. No, dietro io, eh. La stanno redando, raga, la 4x4. La base è qua. No, 255. Ah, tagbot, tagbot. Stanno redando la tag. No, non sta redando la tag. È dentro, è dentro, Ale. Vado io. È dentro, è dentro. Morto? Loro con la tag, bot, stanno redando qua. È una shotgun trap. Fittata, fittata. Madonna mia. Dove è spuccato questo? Sei vivo? No, sono a terra. Non trollo la costa, raga. C'è gente che arriva dalla costa. Ci sono torrette, mi sa, pure. Sì, non entrare dentro. È uscito un Arctic dalla 4x4, raga. Quella close. È l'externa. Sono due, sono due, mi sa. Un'altra aperta la porta, sono due. Uno l'externa e uno la porta. Eh, la cassa è hit e l'altro doppia hit. Però l'avevo hitato anche di Bolt prima. Prova a pusharlo, prova a pusharlo. Mmm, ancora, ancora dietro che sì. Cosa c'è dentro? Uno spazio, uno spazio, uno spazio, uno spazio, uno spazio, uno spazio. Di cons. Porta, l'altra, 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 l'altra. Però, ti tengo... Mi serve una luce, mi serve. Ti può aprire la porta? Esatto, arrivo da te. No, sono coperto, in teoria. È da finire, sto ride. Non andava a niente, tanto a sorso. È il rocket launch. Abbiamo 5 altri in base. Sì. Ah, mi sa che è morto anche quello lì nell'airlock. No. No, chiuso. Che è che può fare... Che è che fa sta move? Uno non girato, uno non qui via. Vai te, morto. Dove? Ammazzati, vai in base e prendi la barca. Sei l'unico senza. Sì, sta cercando la barca. Aspettato. Ecco, chiudi, va. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Stiamo a vedere il resto raid, va. No, mi sono bloccato. No. Ma non ci sono cazzo, Nara Dutron? Boh. Non vedo un cazzo. Non ho visto anch'io, ma... Dari, c'è qualcosa. Ok. È buono. Però dovremmo rompere anche l'altro. Cosa c'era? Ah, niente di che. Ma come Ale fa... È buono. È buono. Per quello che abbiamo rotto, ok. Ma non c'era tutto assoluto. Stringiamo tutto quello che rimane. 27 molle. Questa body... Oh, gente, gente, due, due, in barca. Fermati, fermati. Fermati. Un'è morta, un'è morta. È lì, è lì. È lì, è lì. È buttato. È buttato? È morta. Ok, qua. Vabbè. Cosa aveva? Non so. Non molto proficuo come counter raid, ma alla fine non siamo tornati in base a mani vuote. Ancora non lo sapevamo, ma ad attenderci, però, c'era il primo e vero fight contro tutti i nostri vicini. Ma però da... Ma però da qui a destra, però da qui a destra. Sono sopra la mia collina. Ah ah, noobs. Ma ci guardano o... No. No, no. C'è anche il gatto di striscia. No, no, ci stanno guardando. Stanno guardando ora. No? Quanti vuoi full gear? Sì, due. Stanno venendo verso di me? Stanno farmando o vanno nella neve? Avevano il drillo? Non lo so. Uno ho visto che si avvicinava una roccia. Non credo per me a sconderci. Gente qua, gente che esce dalla base enorme qua. Dove spara? Eh, tommi, tommi a destra. Non andiamo sotto base, andiamo sotto, Tommy. Ok, all'ox. Eh, aspetta, qua sotto, qua sotto a venti, qua sotto a venti. Sono loro, sono loro. Aspetta, fa far scendere. Morto questo giù, morto questo giù. C'è una la roccia, a nord, 5. Lui è morto, sì, il Tommy. Sì, sì, è morto. È ancora la roccia quel tipo, eh, occhia. Ancora la roccia. Il periodo ha lootato, eh. Sto flancando a destra. Uno dietro la base, un HP. Vittata la roccia, vittata la roccia. Aiuta, help. Eh, sono morto da dietro, sono morto da dietro. Ah, c'è il po' sotto. Tutto volato qui? Può salutare? Però, no, lui può aiutare questo. Morto, ha morto anche a me. Capri dietro, a cappa giù, a cappa giù. Close, close. Cazzo, ma il mio badì, dove cazzo era? Andiamo avanti. John. Morto, morto, neanche, morto, neanche, morto, neanche. Ok, full. Io, 80 secondi. 80 secondi, aspetta, provo a tornare il naked. Mi odio? Ma vaffanculo sto qua di oca. Eh, sono morto dal... Ma vaffanculo, va. Si pare se non finivamo in un panino pazzesco. Ma va, sti cazzo di regali che ti droppano le oca, così. Madonna mia, che fastidio. Così puoi fare il video su YouTube, no? Eh. O l'ha fatto lui. Griffare i fight, puoi fare. Palli, già non me lo vedevo. Primo da cappa, poi ammazzavo l'altro, poi ammazzavo un altro, poi ammazzavo l'altro. E poi era la clip di Tocca, via. Ah, va, tutti che roof camp, però. Andiamo a fare uno scherzo. Qua. Venti, andiamo a fare uno scherzo. Se vogliamo incattarli, ora dovrebbero essere fuori in due. Due, tre. Sta arrivando di hack. Sono deep, sono deep. Sono quasi deep. Sono tutti letti. Buono. Come faccio a salire? Lo diamo fuori, lo diamo fuori. Più che l'altro. Cosa ammazzare? Molto ancora? Ho chiagli altri, ho chiagli altri che rientrano. Sicuro rientrano. Ci sono io, ci sono io. Vai sul tetto, vai sul tetto, morfi. Lo faccio. È morto un altro, è morto un altro. È un ladder. Sarai tu, sarai tonto. Ok. Fuori, fuori, ho morto. No, che sei te l'ho dato, cazzo. Ma la sei rato. No, merda. Sono morto, sono morto. Cioè, sono le casse piene di roba lì. No, le sposo. Ecco due. I fight non stavano girando nel verso giusto, quindi abbiamo deciso di ripiegare sul farmare e redare qualche piccola base intorno a noi. Della barca, qua. Hello, grade. Sì. Oh, bro, bro. Rocket, non serve da me. Rocket, non serve da me. È la base che abbiamo ridato? Quella piccola. La troia. Sì, sì, uno mi sta flancando. Da sinistra. C'è un naked dietro anche. Qui, giro più sinistra. Oh, vabbè, ormai sono dietro. Lo close. Non ti pusha, non ti pusha. Non ne io. No, tripla, tripla. È morto dietro, sì, è morto dietro. Eh no, mi hanno preso, mi hanno preso, su di me, su di me. Era loattato. Quali dita roccia ce ne sono? Sono due body per la roccia. Vengo a lootare, vengo a lootare naked. È più avanti, è tipo... Al wall, al wall, l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto, al wall, al wall. È fermo. Ho fatto due hit. Scappa, scappa, scappa. Ho due body dietro di me qua. Vai, vai, vai. Lo do io. Uno è morto. No, per se... No! È ancora qui dietro la roccia. Uno è dietro, vuole. Ah, c'è. Dovrebbe essere morto. C'è wounded? Io sono wounded. Al tuo vecchio body. È il tastalupo manca, mi sa. È il tastalupo che l'ho ucciso. Mi abitano giù qui. Ah, mi sa che si sono presi la base. Sì, sì, sono presi la base. Dove cazzo era? Era qui. Deve essere morto. Eccolo. Ma la roccia dove l'hanno sempre non ce l'hanno. Non ce l'hanno dentro, bro. Cazzo, l'ho visto, sono sicuro. No, stanno arrivando alla ferrovia. Due, tre, 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 tre. Ok. E uno è anche la roccia. C'è davanti. C'è davanti. C'è sopra uno. È morto. È vero. È morto uno. Ma è morto. È morto. Eh? Non li vedo, non li vedo. Non sono morto. Sono alla base? Sì, sì. Due, sì. Gli altri sono sopra. Cazzo, no? Copriti, copriti, Ale. Non piccare, please. Sì, sì. Non piccare, non piccare. Sono coperto, sono coperto. Se il mio si allarga a destra, però muoio, eh. È dietro vuole ancora, eh. Stanno arrivando anche gli altri da sotto. Con la vuole è morto, con la vuole è morto. Stanno arrivando gli altri da sotto. H6 hit sotto, H6 hit sotto. Dobbiamo pusharli prima che ci pushano dietro di nuovo. Ci swarmano. Guarda, è pieno di kits. Morto uno, morto uno. Hittato, hittato, hittato quello, hittato quello. Morto, morto. Nice, nice. Lootiamo e benchiamo, lootiamo e benchiamo. Stanno già tornando, eh. Sicuro mancano altre armi. Non torno con un start. Io non ho portato una riga, eh. Sì, ciao a tutti, Brie, non so. Ok, Brie. Vabbè, vieni, ce la dico. E si spara dico. No. Ah, lo stacca, le pinotte. Minchia, mi son perso il momento, il momento clu. Tolo grade. Eh, 660. 210. Queste pinnatas le tolgono. Certo. Troppo più. Ma è un raid. Ne avevamo abbastanza dai nostri vicini. E messo a punto la nostra tattica, abbiamo tirato su i razzi e siamo andati a raidarli. No, come noi non volano mai. Come è che era, Giber? La gente come noi non vola mai. Ah, la gente. La gente. E ora sai cosa sta succedendo. Le ha messe tutte. Le ha messe tutte? Guarda qua, qua, qua. Ok. Com'è? Forse l'ho missato. Cioè, però si rompe comunque. Open. Tutto open, copri da sopra. Copri da sopra. Morto, morto. Sono due o tre, sono due o tre, sono due o tre. Forse due, due sicuro. Mi sto tornando da fuori. Ok. Mai bad, non capisco dov'era la bingkana. Altra un'altra. Mi può razzare, non capisco. Dipende di quale hai ucciso. Ho ucciso quello lì più sopra. Mi ti può essere razzato da solo quando mi ha razzato. Oddio, oddio. Oh, cazzo. Mi razza questo porco due. Nell'angolino. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Bravo. Sto salendo. Ho fatto un altro. Oddio. Arrivano da fuori, c'è gente da fuori, eh. Erano ancora lontani, però. Morto la K, morto la K. Bravo. Altra gente, occhio, dentro. C'è anche uno. Devo scendere qua. Sto vivo. Posso salire? Se sotto sono morti tutti, torno sul tetto, eh. Eh, non lo so, non lo so, me lo devi vedere prima. La porta che si apre. Ok. Non può entrare. Sto salendo, sto salendo. Nell'airlock. Nell'airlock esterno, tipo. Che sta lì, eh? Se vai? Io dietro invece un altro. Nade ma cominciano. Morto uno sotto. Nell'airlock. Non mi riesce a finire. Morto, M39 vecchiera. M39 vecchiera. No, è io, io. Cioè, ce l'avevo un... No, non ero io, non ero io. Ce l'avevo un... No, no, hai sparato un colpo, mi so. Ladder, ladder, due, ladder, due. Morto due, due. Salgo io. No, no, uno è vivo. Salgo io, dietro di me c'è lui. Vabbè. Sono due nell'airlock. Dietro, dietro. Scendere, eh? Uno morto. Anche nell'airlock, eh? Lo luta mai, lo luta mai. È morto nell'airlock, eh? Il tuo bomb è... Non lo sta lutando. Cosa scarsa? Non lo sta luttando. Vai, vai, vai. È nell'airlock. Ok, è morto quello. Che cazzo di lente ha? Arrazzo qua, arrazzo qua. Non è che dà un moesai, dai. Dobbiamo solo... Dobbiamo lutare, raga. Mi sembra un po'... Complicata. Soprattutto lì, bar. Oh, cazzo. Lui di puttana. Arrazzato Livy, arrazzato Livy. È l'amico? Ce l'abbiamo? C'è uno col... Col pipe... Sotto, mi sa. Riesce a salire, Bri, no? C'è uno con un abrio. C'abbiamo ancora Livy. Salgo, 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 salgo. Il pipe sotto non so dove. Arriva a Bri. Ho salito uno, saluto non volando. No, muoio, forse. Non vivo. Però ti do gli hv, ti do gli hv giù. Eh, te li troppo giù, perché se mi uccidono a me vi... Vi killano. Nede, nede. Sono morto, sono morto. Porca puttana. Ste cazzo di nede. Mi lutano, mi lutano, mi lutano, mi lutano. Nica. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Salgo io, dietro il match c'è uno. Alle uno. Morto. Ok, dovrei buttarmi dove c'è il TC per il metal frag. Arrivo uno tirato dal mio side. Testa al lupo. Ok. Una pietra. È qua che ti punta, eh? Tra me e te, proprio. Sono due, sono due, cazzo. Non è dato ancora. Un AK, un AK. Però entra dentro full, entra dentro full. No, silo. Silo sopra. Entra, entra, silo, io arrivo da base. Che no, dire. Entra, entra. Oh mio Dio, son vivo. Porco, tu, eh. Ho silato il legno? No, no, è in pietra. Come in pietra? Questo è legno, bro. Legno o questo? E lì? Come, come, come. I'm the base owner, come. Come with me. I will open the doors for you. Come, come, come. Mi, sposta, sposta, sposta. Che di puttana. Dov'è che aprono? Che io non sono mai stato qua sotto. Bro, l'unica way out è quella lì che c'è nel shooting floor. Vieni qua. Ah, ok. Ok, ok, ti piccano da sotto. Qua, bro. Ma quella la puoi silare? È in un posto, c'è il frame. Ah, ok. Entra dentro, entra dentro. Magari aprono qui, magari aprono qui, eh. Non so se possono passare, bro. Bro, son passati da sopra, da sopra. Da qui, da qui sopra. Faccio il letto a brio. C'è anche l'altro. Provo a prendere queste qua dietro. Guys, 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 guys. I know where they camping. I can help you. Sono loro, no shooting? Come, 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 come. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sono in... Bro, sono alleati. No, si stanno parlando, si stanno parlando adesso. Li stanno aiutando, li stanno aiutando. Oh, f***, man. Oh, f***, man. They sealed, holy sh**. No, bro, they sealed. Oh, no. M***e, abbiamo perso veramente tutte le armi, questi. Ci ha un più un cazzo, davvero? Purissima roba. Cioè, sono proprio poveri. Che fanno? Come facciamo? Eh, niente, ci killiamo, dobbiamo studiare a Dropbox e... Facciamo così. Cosa si fa? Non proprio, talmeno li abbiamo bucati. È rimasto qualcosa? Puoi entrare, Anto? O... O qua. Aia. GG, 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 GG. E così si conclude la prima giornata di Wipe, stasciando un po' di loot e qualche kit in caso ci avessero flenato. Provo a mettere dentro la roba. Oh, sì, sono dentro, cazzo. Sì, finalmente! Ah, abbiamo fatto... Avete fatto la main? Sì. Ah-ha-ha! Oh, aspetta, vediamo se c'è ancora... Ah, sì, se c'è ancora il mio kit. Ma te ne ho dati due, te ne ho dati. In modo che li faccio, i figli, ce li hai. Minchia, 42 HP lo shelter, bro. L'H dentro. Insano. È proprio perfetto. L'obiettivo ora era semplicemente quello di farmare più zolfo possibile per fare qualche raid, e accumulare altre risorse e armi. E la neve è perfetta per questo tipo di lavoro. Mmm, andiamo i rocket, eh? Sono belli caldi, eh? Oh, c'è uno davanti, bro. Arctic 140. Alla query? Sì. Sto guardando verso di là. Forse sta oldando la query. Occhio l'orso. Ah, c'è un bazzone qua di fianco. Lo trovi davanti. Sì, sta oldando la query, bro. Ok. No, l'orso, cazzo. Non ti fa molto danno, non ti fa molto danno. Sparalo, sparalo, sparalo. Spara il tipo. Eh, due gli ho dato. Cazzo. Ho messo tutto il hit sull'orso. Mi si è compenetrato nel body. Vado a sinistra. Occhio. Morto, morto, tammi. Ce n'era un altro. Continuo a sinistra. Occhio da base. Mi sa che erano queste. Il diesel? Tre. Ok. Dovanti, Arctic. Vai. 30 sopra la montagna. Sono due. Lo stanno buildando, mi sa. Cosa c'è una Glock? Ho fatto una doppia. Sono proprio in base. Ok, sti cazzo. Lascio lì. Il primo target era un gruppo che durante la notte aveva costruito proprio di fianco a base nostra. Ma ancora non sapevamo che il gruppo che avevamo redato il giorno precedente sulla montagna aveva ristrattato. Non so se devi dargli da qua perché sono tutte guards, però vorrei aprirli tutti. Se io lancio... Sotto è... Questa è stone. Lancio tra i rocket lì, apro le guards, poi rompo la porta sul tetto. Cazzo qua. Locker. Ah, mi sa che ci sono dei locker dietro queste porte. Troppo semplice sono. È una ladder. Riparo il jackhammer. E... Puoi portare più razzi? Chi è che c'è fuori? Brio? Oh, c'è gente fuori, c'è gente fuori. Che sta venendo a canterare, fu il gear bianco, fuori base adesso. Adesso l'ho scelta, era 100. Eh, appoggia i razzi, lo picco. Dove, facciamoli vicinare. Eh sì, sì, lo sto facendo vicinare. Adesso. Sì, sì, sta prendendo un flank. Sto sparando a un'altra? Sì, sì, sì. Ti entra. Ok, ok. Magari pensa che quello è il raid. Sparà a 190. Sì, sì, sì. Aspetta, lascio la roba nelle box e... Eh, non sì, sì. Guarda che è M2, eh. Puoi cercare. Oh, non mi hai hitato, non mi hai hitato. Valto, valto. Valto. Fa cassetto, no? Sono ruffo. Sono tutti flankando a destra. M2, M2. M2, M2. Triple bomb. Morto, morto Tommy. Dobbiamo pushare il wall in legno, raga. Sono andato. Mettate il Tommy. No, insomma, cazzo, sono wounded sul roof. Sai, su Ronaldinho, stanno regionando. Sono morto, sono morto. Stanno ruotando le M2, eh. Cazzo. Eh, stanno pure regionando da base. Ma cazzo, sono sul roof. No, cazzo, mi ho voltato. Niente. Dai, restati, ti prego. Dai, una volta, one time. Sono entrato tutti cruciati dall'altra parte della collina. C'è che li jumpano. Morto M2, morto M2. Ho bisogno di assalto. Guarda. Oh, parco, pensavo avesse wall. Porco. L'M2 è il full headdato, eh. Ne sono altri due. Sono da base. C'è anche uno lontanissimo. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Quello silenziato. È il nostro raid. Il primo, quello in mezzo all'isola. Porto il naked che tornava. No, il fight è sia full spostato. Stanno andando a lontanissimo. C'è uno che nuota, che cazzo. È Pichu Black o no? No, no. Stanno jumpando il raid dall'acqua. Ecco il buon silenziato. Io ho preso un flank. Sono quasi sopra la montagna. Mi sono chiuso dentro uno shelter. Mi silenziamo di M2 e di L9. Ma dove cazzo sono finite? Passo intorno a me. Li vedo, li vedo, li vedo. Sono tutti internatessi. Sì, sì, sì. Prova i tartili? Come vuoi. Lasso mi busciranno tutti. Eh, il cazzo di L9. Madonna mia. Il volto silenziato, non so che cazzo. Eh, L9, L9. Non li vedo, bro. Dove sono le rocce? Eh, sì. Il doppia casa è hit. Uno è morto, uno è morto. Lontanissimo però. A 50. È full dead. È fatto hit o doppia casa. Sotto, saranno beccando se loro beccano in base, per forza. Sì, sì. Vedo il tipo naked. Questa H, questa H. Lo prendo io, lo prendo io. Morto, 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 morto. Avete un altro dietro? Ok, naked. L9 o L9? Ok. Trovo l'arma principale. AK, AK, L9. AK, qui. M2 l'ha bancato, mi sa. Ma voi bancati, lo aspetto sotto qua. Bancano uno per uno il kit? Sì, ci sta. Eh, peccato per l'M2, cazzo. Eh, peccato che loro hanno le 9 bolt. Si tappano. Ti prego, no. No. No bunker, ti prego. Ok, non è bunker. Com'è? Carino. Cioè, non so, vi sono solo 3. Carino ti da 3. Ma non bellissimo. Hm. C'è un drone? Ah, cazzo. Pensavo fosse lo shot. Cazzo. Da, 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 il drone. Ma non è malissimo, guarda. Bello, bello. Hm. È bello, dai. Hm. Vai. Carino. Non vedete niente. Riga, questo è un preso, veramente, tanto cazzo, eh. Erano paninati tra noi e quelli dietro. Ok, io sono full. Mi sto staccando la pietra. No, non ti sei sterno. Aspetta, gli apro un locker. Ah, è vero, il locker. Oh. Vabbè, andiamo a bankare. C'è un altro qua, di locker. Eh, dopo lo apriamo. C'ho della roba, io. C'ho il rocket lex. Forse è meglio bankare, bro. Ok. Oh, è che... Tantissimi, tantissimi, da me, da me, da me, da me, da me. Non hai help, non hai help, c'ho un botto di roba, io. Eh, non è possibile. Dimmi se mi push, no? Di troppo, no, no, no. Sono due a sinistra, due a sinistra. Eh, non li vedo. Non ti push, non ti push. Ok. Mi allargo, mi allargo. Sì, sì, per forza. Azione in furnace. Sono anche sopra? No, sopra no, non possono salire. Uno morto. Mortidio, mortidio. C'è un'altra a sinistra. La Furnace... Furnace AK. Morto? Ho detto Furnace. Ho detto Furnace l'ho ucciso. Ok, sotto, sotto di te, sotto di te, Ale, sotto di te c'è un altro, in teoria. È morto, l'ho ucciso. Tre body? Sì. Ok. Furnace invece l'ho ucciso? Sì. Boh, sono morti tutti loro. Holy shit, che paura. Stavo bancando una fiamma, cazzo. Di là c'è un kit. È un mega che sta continuando a riprenderlo. Dov'è, dov'è? 155. Lo sparo. È là davanti. Boh, però è M2. Oh, yeah. Eh, sei scemi. Ecco perché... Non l'ho trovato, allora. Minchia, però che culo che l'ho visto. Ma com'è possibile, bro? L'ho ucciso davanti. Come ha fatto non trovarlo? Non lo so, bro. Ha annichiliti anche questa volta i nostri montanari di fiducia e rubato l'M2. Saremmo tornati sulla neve per scautare altre basi da raidare, ma non prima di aver raidato un fastidioso roofcamper che dall'altra parte della costa continuava a sparare con il suo bolt sul tetto. X. Ah, ma non è che sono quelli dietro? Ma non c'è la turret? L'hanno tolta? L'hanno tolta. Ah, ok. Me lo metti un po' più in alto, aspetta. Ah, sta fermo il mini, what the fuck. Così, così, così. Non puoi dire che l'ha raidato. Ti porto già, poi? Sì, sì. Non so se è rotta. Sì. Sì. Ok, oh. Buon abrio. Tenere asciuti. Sta salendo la garage. È dietro la garage. Dove ch'è? Sto lanciando le sacce in una porta di legno al lato, eh. Eh già, gli esplosivi, eh? Vorrei dare. No, qualche saccio per entrare, no. È ancora nello shooting, eh, occhio. Prendevo qualcosa? L'ho ucciso. Ok, va, ottimo. Potremmo boostarci, eh. Dimmi quanto prendere. Prendi, mm, dodici. No, posso di più. La ventina, però. Ok. Dovete mettere la ladder nell'angolo. Sta aprendo. Così, è? Sì, poi puoi entrare. Ok. Però razza 4, tipo, qui. Vai. Aspettami, aspetta, aspetta. Nade da sotto, qua. Ma via. Ma questo. Ho fatto malissimo, bro. Fini? Mini, mini. C'è un bot, c'è un bot. Mi schianta? Lo razza ancora giù. Sì, sì. Ho le axe. Ah, ok, ok, sì, sì. 4. 4, 4. Alle nade, occhio. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Ok. Sono morto da nade. That's bad. Vengo a prendere. Non passo male, troppo. Armored sotto. No. Wow, sono caduto. Abbiamo altre ladder? Una. Una sola. Aspetta, però, sei col building plan. Velo duro, ne ho un di Armored, bro. Quelli vogliono counterare. Armored door. Dammi i razzi, l'explo, bro. Oh, porco due, che male mi ha fatto. Merda, merda, troppa gente, troppa gente. L'ho ucciso dentro, l'ho ucciso dentro. Mi sta piccando troppa gente. Ok, uno l'ho ucciso. 128 più 12, la faccio un Armored, bro. E' dietro, tu per uno. Mardacione. C'è un po' troppa gente che circonda. Stanno pushando anche. Stanno pushando in due. Tanto o no? Una sulla strada. Morto no, morto no, morto no. Uno si sta allargando... Solo uissima. Forse a pronti in quanto, bro. Ale, ale, devi piccare anche tu se riesci. E volevo togli rileviti. Uno sotto muro, uno sotto muro, uno sotto muro. Non posso andare, bro. Non riesco a fare un cazzo. Oh, non sei letto, non sei letto. Mi stanno voltando dappertutto. Non riesco a muovermi. Eh, l'Arcic è proprio sotto muro. Sono in due sotto muro, se hai visto l'Arcic. Direzione, direzione. Due sotto muro e uno... Una 30, tipo, col Bolt. Però c'è ancora. Si è visto l'Arcic. C'è anche un hazmat normale sotto muro. Sì. L'ho vista? L'ho fatta a Cassio, non è morto. What? Non me l'ha fatto lui. Non so. Ho una meds. Lo sono morto. Non è che torna. Deciso. Non è lo stesso, non è meglio. Ma mi puoi passare delle meds da sotto... Ah, ma il Bolt ha pushato. Dall'angolo a 110, io sono cover. Ok. Va, 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 va. Bravo, bravo. Ah, Cassio è il Bolt, Cassio è il Bolt. È full gear. Dietro il TC. Secondo me puoi landare. C'è anche un Artic sotto wall. Io ho visto solo quello normale. Ah, ok, ok. Allora è solo lui. Manca il full gear dietro... Aspettato. Va via. Guarda. Vabbè. A Cassio è doppio hit. Porta lì i razzi. Porta lì i razzi. Pusha Brio senza fare domanda. Ok. Pusha da dove è safe, qua. No, è da qua, da qua. Qua, qua. Oh, oh, cazzo. Dammi, dammi, Brio. Cazzo. Aspettate, aspettate. Dove sta picc... Ah, sopra. Hs. Morto uno, morto uno. Dammi c'è il quattro, Brio. Forse basta quello. Vai. Eh, ci sono. Vieni qua. Aspettate. Sono un altro morto. E... Huxplo. Mi sono messi sulle zipline anche per spararci. Buttato. Vado a piccarlo. Hai solo ropa, solo ropa. Tu, sì, l'ho visto. Aspettato una volta. Aspettato. Mi pianto. Oh, grazie divina. Dai, fatti il viaggio, voglio elevarmi da qua. Ah, ci stanno aspettando. Stanno ne dando ruffo. Com'è, raga? Non c'è, si è morto. Si è morti in ancora? Ah, no, hanno già lo scuba, però. Hanno già lo scuba. Eh, prendono pure il sottomarino. Ale? Io sono morto dentro, sono morto dentro. Minchia, stavamo full aspettando, che figlio di puttana. Morto uno, morto uno. Però, random. Era un picazzo. Dietro la furnace, era. L'ho riusciso, l'ho riusciso, si stava lutando. Entro, bank, piccolo al tetto. Non li vedi più, Anto? No. Oh, shit, mi sono piato un colpo, è stato accamperando. Mi ha fatto un head, sta malissimo, eh. Mi viene a ruotare. Holy shit. Era ninja? Sì, sì, è ninja, è ninja. Minchia, mi sono piato un... Madonna, un jumpscare incredibile. Lo vedo l'altro, lo vedo. È in costa, no? Ma cazzo, sì. Allora, rocket launcher, sì, sì. Oppia, tripla. Morto, morto, morto. Sì, sì. C'è un naked che... Ok. Dai, lo ucciso. Vai a ruotare tu quello sotto. Stanno ruotando, stanno andando a ruotare. Bravo. Ho lasciato qualcosa di una manchia di che. Hai visto che trick? Madonna. Non è stipato. Ciao, Rick. Siamo, Rick. Sì. E ancora una volta i nostri amici della montagna ci avevano provato, ma senza concludere nulla. Ora però era il momento di cercare un raid veramente succoso. Full gear. Sì, sì, sono due, ma... Sì, 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 full gear, full gear, tutti e due. Uno è paracadute. Che cazzo sono? Bro, saranno a destra. Quali avremmo visti? Ecco lì, ecco lì, su di me. Farmano, farmano. Sotto di te due cinquanta sono. Quanto close? Oh, cazzo, ce l'ho closeissimo. Easy, easy. Ce l'ho al primo, eh. Quello colparagadute lo sparo. Non lo vedo, ancora non lo vedo. Io lo vedo, io lo vedo full, lo vedo full. Ok, ok, ok. L'altro, l'altro manca. Me la gioco giù, eh? Sì, sì, sto un attimo fermo e voglio capire se picca da sopra. Guarda, guarda, guarda. Easy, easy, let's go. Ok. Sapevo. Stanno solo metal. Minchia bro, stava full crocciando di fianco a me. Lo sapevo, cazzo. Dg. Bro, ma cos'è una fornita di solo style? Ah. Holy shit. Questa quant'è che non gioca? Già, full gear davanti. 100. Mi ha visto, eh? No. Sto andando a destra. Mi ha visto, bro. Uno è scena da base. Sono due, sono due fuori, sono due fuori da base. Mi ha trovato chi era di dare. Full nice old side. Holy shit. Il caricatore me li facevo tutti. Porco, non riuscivo a caricare. Andiamo a redarli, bro. Su, adesso. Una base di merda. Mi sa che sono sul tetto. Sì, si sono uno build, bro. Se volete, ho silenzio. Sono tutte, tutte tra sul tetto, tutte tra sul tetto. Facciamo un tiro da una parte. Ti hanno visti? Non so. Possiamo ucciderli? Non, 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 non. Io ci sono. Ma non è che ci piccano da russa. Eh, bro, ce l'ho davanti. Morto, no, morto, no. Morto. Doppia un'altra. Una è già, gargaci. Una è dietro a base e l'altra è fuori, eh? Ce n'è uno fuori. Ce n'è uno fuori, occhio. Ce n'è uno fuori, è andato sulla destra. È sceso sotto proprio, è sceso sotto. Non so se penserà al raid. Sì, dietro, 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 dietro. Non è questa, non è questa. C'è un'altra ancora. Morto, 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 morto. C'è un'altra ancora, sotto. Di busto, di busto sopra, bro. Vai, vai, vai. Si sta lutando sul tetto? Si è lutato, si è lutato. Non riesco a salire. Occhio, ce n'è un altro fuori, ce n'è un altro fuori, occhio. Sì, 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 sì. Mi ha messo un'altra. Eh, lo, è, lo, è di qua, di qua, di qua. Hai fatto tre hit. Dove, è in base? È sotto, è sotto, fuori. Va attaccato a base? Sì, si è attaccato a base. Porto un'altra in base. Morto, morto, morto. Sto il dando, eh? Sto il dando. Ok, sono tutti morti fuori, tutti morti fuori. È che l'ho preso in arry, non potevo spavare. Adio, adio. Ho preso questa. Forse escono dal front. Qua mi stanno il dando, non posso fare un cazzo. Devo darmi la porta prima. Morto, un'altra dentro. Ok, close. Naked fuori, morto. Due quadrante. Però c'è anche un po' di rad, cazzo. Qua ria tolto tutte le armi prima? M'ha razzato sopra, porco, due. Mi ha razzato, mi ha ammessiato. Questi sono i raid più fastidiosi, quelli che sai che saranno un sacco facili perché devi semplicemente holdare quella porta, ma per una piccola distrazione, mandi tutto in fumo. Un po' rammaricati, siamo andati alla ricerca di un'altra base da raidare e ci siamo ricordati del basone nella neve di fianco alla stone quarry. alè, premi spazio. Premi spazio. No, non ce l'ho al parca tutto. Com'è? Ma c'è pure una raid di fianco. Abbassati un po', un poco, abbassati un poco. Non riesci a razzare da qua? È certo. Ma aspetta, mi stabilizzo. L'ho presa, eh? Minchia, quanto sei forte. Dove, sarà rotta? Non so se è andata. Sì, sì, è rotta. Ok. L'altra? Di là non c'è. Là c'è un tetto. Posso scendere anche io? Aspetta, mototipo. Sì, puoi scendere. Brio! Non fa. Puoi salire sul tetto? Ma qua è facile, regà. Regà. Tutto storto, Brio. Che tento, Ale. Tre full gear, tre full gear. Hanno rocket launcher. Morto Brio? Sì, ci basta un arrow nel caso. Non ho i colpi. Che palle. Disparo di palle. Due hit di palle, ti ho dato. Quattro hit, quattro hit. What? È morto? No, è vivo. Farò un HP. Fanculo. Ma se no, hanno beccato tutti tre o è solo uno? Ah, hanno beccato, mi so. Ma tutti e tre l'hai visti? Oh. Fuori. Oh, guarda qua. Oh! Blu! Oh mio Dio, vieni qua! Eh sì, sì, anche di là è pieno. Oh! Ah. B. Oh, dammene, dammene un po'. Un attimo, un attimo, sto cercando di capire che cos'è che puoi fare. Difendo la base, difendo la base. Tieni, tieni. Troppi, troppi. Attento! Troppi! Ma niente, non mi tiro, cazzo. Ma ci sono troppe torrette. Ma non mi fermo. Abbiamo le robe per fare le turette. Ma sai che io non le ho togl... Ma io non le romperei queste sotto. Eh? No, solo questa che mi dà fastidio. Le danno tutte fastidio. No, non toglierle, non toglierle quelle. Entriamo... Dobbiamo andare a prendere i rocket. Gli HV li lascio qua, tipo, così ci difendiamo. Sì. Oh, mio Dio, quanti HV! Vado a casa, dovresti qui. Vai. Ciao. Ma, può morire? Cazzo, già mi arrivo a un mini addosso. Ci sono le turrette. O le avete rotte qui sopra. Mi stanno canterando all'altro lato, Bruno. Non li abbiamo visti, cazzo. In cosa? Non so, però sono tutti qua. Ah, niente, ma erano due pezzotti, niente. Tranquilli. Ah, quelli di prima. Eh, sì. È vero. Eh, raga, ci sono due... Due barra tre full gear che vanno nella foresta. Quello che usiamo noi per... No, sono quattro. Vuoi mettere il 9, ce l'ho da aprire io, adesso. No, probabilmente non so... Magari vi vogliono prendere in mini, non so. O stanno ad andare a dare, non ho una idea. Aspettiamo un minuto, ma li vogliono ridare noi. Ah, facciamo il giro... Forse, forse ridano la base che hai visto tu, Ubrio. Che ti ho detto che l'avevamo già vista. Quella in stone. Buon affarno, base. Sono là che ci guardano, però sono... Sono a tre... Tre e quaranta. Tre e trenta. Sulla roccia che ci guardano. Teniamo, Anto. Piccoli, piccoli. Razzo, non scendete. Ok, forse dobbiamo... Bro, bro, vieni qua. Guarda, guarda. Guarda quanto è succoso. Eh? Ma questo era pronto. Ma dove si scende, porca? Tre botte, bro. Eh, bro, sono ancora lì, eh? Sì, sì, tutti tra i radii. Minchia. Eh, hanno due cosi per... Oh. Qui ti sei i ragazzi nostri, eh? Guardi se si muovono. Sì, sì, si stanno andando via. Ah! Mi stanno ridendo. Eh, dai. Ok, ma... Ma che facciamo? Eh, è bello quando ti raidono, eh? Oh, oh, ragazzi. La vostra base. Correte, più veloci. Eh, eh. Vendetta. Più veloci, più veloci. Una piccola distrazione può costarti un intero wipe. E noi, in quel preciso momento, eravamo la loro piccola distrazione. Mentre un altro gruppo stava razzando la loro base come se non ci fosse un domani. Erano così distratti e così ormai lontani dalla loro casa, che il tempo di tornare ed era già tutto finito. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e spero abbiate e stiate passando delle buone feste. Il 2023 per me è stato un anno di crescita incredibile qui su YouTube e non vedo l'ora di spaccare ancora di più nel 2024. Da Noiz è tutto. Ciao. Ah, la base che stavamo ridando era vuota. Avevano despanato tutto. Fuck.